Allora, sezione investimenti, operatività, borse, TF, TC, ETN e compagnia varia. Aggiornamento settimana, investimenti, consigli di Lambrenedetto. Che cosa fare? Apro una parentesi, questi sono consigli miei, non è che poi avverrà questo. Ognuno è libero ovviamente di fare quello che vuole, con i propri soldi e con gli investimenti. Io faccio un'analisi del mercato e dico che cosa vedo, molte volte ci azzecco, come vedete sono stato una settimana prima dei crolli, vi avevo detto che succedeva, vi avevo detto di vendere azioni, posizionarvi short con degli TC, ETF e compagnia varia. Come vedo il mercato? Allora, vedo che c'è stato un grandissimo rimbalzo, un logico rimbalzo. Allora, i mercati hanno rimbalzato sulla trendline rialzista ormai diciamo decennale, proprio con una precisione millimetrica. Se andiamo a vedere i grafici dei ribassi del 29 e dei ribassi soprattutto del 2000, lo ripeto, quello che è successo oggi è stata una fotocopia più o meno del 2000, uno che al mese di febbraio non ha venduto. Entrando short vuol dire che dei mercati ne capisce pochi, veramente ne capisce. Al di là di questo che ormai è successo, è stata iniettata liquidità, i mercati hanno fatto un rimbalzo, ma io continuo a restare convinto che a marzo 2020 è partito l'orso 2020, il mercato ribassista. I mercati ribassisti non durano mai un mese. Questo non è una trappola dell'orso, questa è una situazione molto pesante, molto critica, per cui vedo un ribasso entro due o tre anni. Allora, se qualcuno ha cavalcato il rimbalzo, bravissimo, ma in questo momento io non mi posizionerei long, né sull'azionario né long, perché rispetto ai minimi le azioni hanno già corso tanto, gli indici hanno già corso tanto. È vero che ci sarà una fase in cui probabilmente troveranno il vaccino, probabilmente sì, questa situazione non andrà così catastrofica, ci sarà una situazione in cui sono possibili ulteriori rialzi, ma io vedo a breve, le trimestrali saranno comunque abbastanza negative, però sai, incide l'ultimo mese, il vero pesante sarà fra tre mesi. Io vedo il mercato che può rialzarsi ancora un po' da qui a tre o quattro mesi, prima di partire poi dal mio punto di vista uno short, un ribasso che durerà un paio d'anni. In questo momento, se devo vedere un'operatività settimanale, mi posizionerei short, di brevissimo, parlo di una settimana, dieci giorni. Se porterei a casa del gap, venderei e magari mi posizionerei allora long per i prossimi due o tre mesi. Vedo un rialzo degli indici, vedo un Dow Jones a 25, vedo uno Standard & Poor's che può salire ancora un po', ma io poi tutti questi li vedo veramente giù perché non è finita la situazione. Quindi io se dovesse operare, opererei a breve short, ok, sullo Standard & Poor's, sul Nasdaq e compagna varia. Se faccio del gain, poi mi posiziono long per due o tre settimane e fino all'uscita delle prossime trimestrali, cioè al mese di giugno. A livello di interessante, ripeto, c'è interessante la carne di maiale, il Lea Logs, che è un 1x, ciclicamente tutti gli anni sale, bisogna avere pazienza. In America addirittura adesso dicono che l'80% delle fabbriche sono ferme e quindi prevedo un rialzo di questo. È partito, vi avevo detto a 1,55 di prendere il gas che è partito, è arrivato quasi 1,9, adesso ha fatto uno storno. Il gas è tremendo, il gas è tremendo. Se chi mi ha seguito e allora ha comprato a 1,55 ha già fatto un buon gain perché è salito più del 30%, anche se poi ultimamente poi un filino ha rintracciato. Io con un 3x, avendo portato a casa un 50% di gap, sarei uscito. Adesso potrebbe essere ancora interessante rientrare ma con stop loss fe secchi, nel senso che se perde è meglio liberarsi, a meno che tu hai la forza ancora di mediare. Non vedo un gas sotto l'1,50, non vedo un gas sotto l'1,55 ragazzi. È una materia prima che ciclicamente sale forte verso il mese di ottobre, novembre, l'anno scorso è salito un po' ad agosto, ha fatto poi una salita e poi il mese d'inverno è sceso, tutti se lo aspettano alto ma c'è stato l'inverno più caldo degli ultimi 150 anni, non può replicare una cosa del genere. Quindi è un investimento che con un termine diciamo di tempo, se si ha di 5-6 mesi può essere interessante. Il petrolio, è vero che adesso c'è stato l'accordo, ma lo sapevo benissimo che questo non avrebbe portato al rialzo del prezzo del petrolio. Tanto è vero che è molto basso, è ancora 23 dollari, è molto interessante entrare. Secondo me io ci entrerei con 2x delle Societe Generale, ok? Lascerei perdo i fattori a leva 3 perché sono molto rischiosi. In questo momento ne so qualcosa io che purtroppo me l'hanno delistato perché mi sono preso il meno 30 sui denti che anche io non mi aspettavo una cosa del genere che era successa dal 91. Quindi in questo momento petrolio assolutamente long. Se dovesse scendere ancora deve avere comunque la forza di mediarlo. Se hai un'ottita di tempo di qualche mese ti porti a casa delle belle soddisfazioni col petrolio. Io aspetterei qualche giorno perché c'è comunque il cambio contratto. Quindi col cambio contratto lo tireranno su, chiaro, c'è il cambio contratto. Però se uno vuole iniziare a entrare adesso e mediare e accumularsi un castelletto, bisogna crearsi un castelletto. Ma anche sugli indici, crearsi posizioni short, ok? con fattori con ETC, ETN, rapporti 3, in particolare sulle borse americane, ma anche vedo, secondo me, anche su quella sul DAX perché è salito anche il DAX e le macchine non venderanno niente. Iniziare a costruirsi anche lì delle posizioni short non è da stupidi. Bisogna creare il castelletto. Il castelletto vuol dire dopo un rimbalzone del genere, ragazzi, dove possono andare ancora gli indici dopo un rimbalzone del genere? Io mi costruirei un castelletto short. Poi ripeto, se portate a casa un buon gain, magari in una settimana 10, potete poi pensare di girarvi long per un periodo di 2-3 mesi, ma il mercato continua a essere e sarà ribassista. Anche se per 2-3 mesi si inventeranno qualcosa, anche se faranno la trappola del toro, il mercato è ribassista. Puoi iniettare quanta liquidità vuoi, ma fra un po' gli utili delle aziende faranno schifo. Ci sono ancora un mare di titoli, americani in particolare, che stanno sopraperformando 20-30 volte i loro utili. Prima o poi viene giù tutto ancora.